Dal 20 al 27 ottobre 2024 la Cicatene e le sue frazioni celebreranno il beato Rosario Angelo Livatino in diversi appuntamenti a carattere religioso e civile. L'accoglienza della reliquia insieme al convegno sull'legalità rappresenta un evento che si inserisce nel contesto di sensibilizzazione sulla giustizia e sui valori morali che Livatino ha ingarnato. Le comunità parocchiali, le scuole e le associazioni saranno coinvolte nella settimana della legalità insieme ai rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e della società civile, contribuendo così ad una collaborazione trasversale nel promuovere il bene comune e combattere le mafie. Rosario Livatino, conosciuto come il giudice, il ragazzino originario di Canecatì e fervente uomo di fede, è stato un magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata. Per questo motivo è stato ucciso ad agrigento nel 1990 per mano della Stida, una organizzazione mafiosa. La beatificazione nel maggio del 2021 lo ha elevato a testimone di giustizia e di coraggio. Al convegno sulla legalità legato alla figura del beato che esiterà sabato 26 ottobre alle 10.30 nel teatro parocchiale della chiesa matrice di Acicatena saranno presenti la dottoressa Lia Sava, procuratrice generale della Corte d'Appello di Palermo, Monsignor Alessandro Damiani, arcivescovo della diocesi di Agrigento e Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Cesi. Ma sentiamo sull'iniziativa Don Carmelo Sciuto, parroco della chiesa matrice di Acicatena. Il comune e la città di Acicatena, tutte le realtà ecclesiali della città, cospiteranno dal 20 al 27 di ottobre le reliquie del beato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia, esempio di legalità. In questa occasione la città insieme a tutte le comunità ecclesiali hanno indetto una settimana per la legalità, così che incontreremo tutte le varie realtà, dalla realtà delle scuole di ogni ordine grado, ai vari appuntamenti giovani nella piazza San Pio di Acicatena, per poi arrivare a un grande convegno sulla legalità, dove saranno presenti autorità, il Vescovo di Agrigento, il Vescovo di Acireale e tante altre attività che potranno diffondere un messaggio di legalità, ma anche un messaggio di martirio e dare nuovo rinnovamento e nuova linfa vitale alle comunità ecclesiali di Acicatena.